Dopo sei anni esce di scena anche Francesco Bassi. Il 20% di quote in mano al rappresentante del gruppo di Brindisini che a partire del Real Paradiso Brindisi nell'estate 2015 diedero vita alla nuova società calcistica Brindisina, è stato ceduto alla compagine preseduta dall'imprenditore Daniele Ariliano, che nelle scorse settimane con l'acquisizione del 50% di quote detenute dai soci campani Vangone e Vertolomo era diventato proprietario del Brindisi con un pacchetto pari al 75%. Dopo sei anni intensi di emozioni, si legge in una nota a firma di Francesco Bassi, sono a comunicare la cessione delle mie quote alla nuova compagine che, sono certo, saprà imprimere ancora più vigore e continuare nel solco del passato a dare stimoli al progetto del Brindisi Calcio. Proprio come fino ad oggi è stato fatto, siamo cresciuti tutti, prosegue Bassi, nella consapevolezza di stare a scrivere la storia di questa città. Faccio un grande in bocca al lupo alla nuova squadra che ha ottenuto, grazie a chi fino ad oggi ci ha creduto e si è speso per la città, il parere positivo della Covid-19 per un eventuale ripescaggio in Serie D. Porterò nel mio cuore i bei momenti vissuti insieme, quelli che fanno capire che quando si è uniti non esistono ostacoli insormontabili. Intanto, questo pomeriggio, primo raduno di calciatori vecchi e nuovi volti presso il Franco Fanuzzi, alle 16.30, la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Mauro Chianese.